Romero, è stata la partita che il Campopasso doveva vincere e nella quale ti sei anche sbloccato tu, la partita perfetta? Sì, diciamo che è stata fatta bene veramente dal primo minuto, abbiamo avuto i primi dieci minuti di arrembaggio totale a loro. Penso sia stata importante l'impronta che abbiamo dato alla partita, quella di metterle subito sotto, infatti non è a caso che abbiamo trovato subito il vantaggio. È arrivato un bel gol, sono contento perché di sicuro a me serviva, poi dopo eravamo riusciti fino adesso comunque a sempre fare grandi risultati. Secondo me siamo veramente una bella squadra in tutti i nostri componenti, quindi non era necessario per forza il mio gol, a me serviva perché giustamente anche il morale ne ha giovato. Speriamo, ho detto, da qua in avanti di poter dare ancora un contributo, ma sicuramente è stata una gran bella partita, quello sicuro. L'impressione è che dopo i tre pareggi di fila siate stati pungolati anche nell'orgoglio, è così? Sì, sicuramente da tutto, pungolato da tutto, anche la classifica ci pungolava perché giustamente iniziano ad essere più vicino le concorrenti, sono anche cambiate forse rispetto a quelle che era qualche settimana fa, quindi era d'obbligo vincere. Secondo me si è proprio visto dal primo minuto quanto si volesse vincere e ce l'assi fatta. Un bellissimo gol, ce lo vuoi raccontare? Non mi ricordo niente né chi ha messo la palla, credo che l'abbiano respinta a loro corta, è arrivata la palla, bello male che non l'ho lasciata perché sentivo dietro Luis che come sempre quella palla fuori, la seconda palla, voleva scaraventarla lui in porta. Ce l'ho fatta, ci sono arrivato io e ho detto ma sì, calciare calcio e è andata bene, è andata lì, lì dove il portiere non poteva metterci neanche i guanti, quindi bene. E adesso la speranza è altre titolarità per te oltre ad altri gol? Guarda io spero solo di vincere questo campionato, vincere ancora più partite, poi dopo gioco io, gioco agli altri, davvero non è una fase di circostanza, te l'ho detto la prima volta che ci siamo incontrati. Per me l'unica roba è che dalle prossime 3-4 partite si vincano tutte e siamo qui il 5 maggio a festeggiare tutti. Poi se ci sono io dentro il campo meglio ancora per me, se non ci sono io festeggio più degli altri sicuramente. Qualche giorno fa siete stati a Ielsi, un piccolo paese della provincia di Campobasso, a conoscere i tifosi del posto, che impressioni hai ricevuto? Allora di sicuro li saluto prima di tutto perché mi hanno fatto veramente sentire importante nonostante da qui a febbraio quando sono arrivato non abbia fatto praticamente nulla. Ci hanno veramente abbracciato per tre ore di fila, è stato bello conoscerli, infatti oggi sono andato volentieri a salutarli più di una volta perché mi hanno fatto sentire veramente un calore incredibile. Per questo li ringrazio e se mi hanno smosso qualcosa magari sicuramente il merito è anche loro.